no attenzione a una cosa quando facciamo l'accordo maggiore si abbassa la terza a mezzo tono però poi devi arrivare comunque all'ottava con lo stesso slancio altrimenti viene esatto canta, canta, canta cantare libertà sai, la gente è strana prima si odia e poi si ama cambia idea improvvisamente prima la ferita poi mentirà lui senza serietà come fosse niente a, facciamo vedere questa scala come fosse non scendere troppo come come fosse proviamo non scendere troppo non scendere troppo non scendere troppo non scendere troppo Tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo, un punto sei che non ruota ma intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore giù. Sai, la gente è sola, e come può lei si consola. Non far sì che la mia mente si merda in concettura, in paura, inutilmente poi per niente. Tu, tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo, un punto sei che non ruota ma intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo, non cambierai. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più. Brava, Sofia! Grazie. Allora, mi piace molto come la fai, attenta a qualche noticina, tipo quelle che abbiamo visto prima. L'unica cosa, se proprio vogliamo aggiungere ancora un altro particolare per migliorarla ancora di più, tra la strofa e il ritornello, provate a dare una differenza maggiore, cioè nel senso che il ritornello esprime l'amore tu, tu che sei diverso, anche perché sappiamo di quello che parla questa canzone, no? Sì. Dice che il mondo va in una direzione, la moda cambia, tutti cambiano, la gente è strana, si odia, poi gli vedi che stanno insieme, eccetera, mentre tu sei diverso, quindi là si ferma il mondo e quindi c'è questo amore. Quando ritorna nella strofa, ad esempio, andiamo dal secondo, la seconda strofa, ci faccio sentire un attimo, abbiamo fatto in mezzo al cuore. Cerca di cambiare proprio l'espressione. Sa, la gente è sola, e come vuole si consola. Sa, la gente è sola, e come vuole si consola. Sa, la gente è sola, e come vuole si consola. Ok? Cioè proprio cerca di fare un discorso diretto. Ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente, poi per niente. E qua di nuovo la luce. E' come se fosse un po' più riflessiva la parte della strofa. Proviamo solo questo pezzettino. Ma non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente, poi per niente. E tu, tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo. Un punto sei che non ruota, ma intorno a me un sole che splende per me saltando, come un diamante in mezzo al cuore. E tu, tu che sei diverso, almeno tu, nell'universo. Non capirai, dimmi che tu sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa si sentiva molto di più la differenza. Ci continueremo a lavorare. Va bene. ciao